BMW ampia la gamma serie 1 con la tre porte, variante inevitabile capace di esprimere con maggiore intensità il carattere sportivo del modello. All'esterno il look è quello inconfondibile della serie 1, cofano motore allungato, abitacolo arretrato, passo lungo e sbalzi corti. All'interno l'ambiente è come sempre lussuosamente austero e sulla seconda fila il divadetto posteriore è disponibile a due o tre posti. Tra i vari motori, benzina e diesel, alcuni dei quali particolarmente risparmiosi, quello che assicura la migliore resa dinamica è indubbiamente il 3 litri 6 cilindri turbo benzina da 320 CV che equipaggia la M135i. L'esperienza di guida a bordo di questa vettura è esaltante, l'auto si rivela precisa, sempre disponibile ad assecondare la richiesta di potenza e con una tecnica di assetto adatta alla perfezione, alla cattiveria del motore. Tutte le versioni sono equipaggiate con cambio manuale a 6 marce, mentre l'automatico ha 8 rapporti e optional. Inoltre, con la nuova serie 1 3 porte esortisce la trazione integrale X-Drive che nel contempo diventa disponibile anche per la 5 porte. Il destino prezzi parte da 23.800 euro con le versioni M135i e M135i X-Drive proposte rispettivamente a 42.600 e 46.800 euro.